www.redigio.it E la storia continua. Un'altra storiella in dialetto milanese, il Pegno. Che senta, suo padron? All'era prima volta che vieni qui nel suo ristorante, ho mangiato molto bene. Adesso fa un salto in bottega, in due cose del smentegare il portafoglio dentro in un cassetto e torni da volare a pagare il cuneo. Insomma, per fare roba in regola, grazie a chi la mia signora impegna. Ma per l'amor dolcello, che vada pure con la sussura, che conosciamo una delle mie signora che la macresse. Avuraria mingà che lui, per una quale ragione, al mappides mingà torna e isci, me ne resta qui un'altra. Ma che il taglia tranquillo, sono chiede di passo. La mia mire, che le mora là in quel canton, la gada sta qui perché tra poco arriva anche la sua sorella. Beh, ho capito, va bene, se vedo. Bel tipo, al vencì a darmi impegna mie, che, a quanto vedo, le innamora proprio minga mal. Guarda che vici, e che gambe. Ma mi so minga, quando mi serano un dos barbatel di donici, ha gané a minga. Ma, mistero della natura. Ma, se invece di stare qui a fare della filosofia, andassi là a vedere questa caputù, ma in fondo gavaria anche a diritto. Ha l'impegno, ha l'accauzione. Ma, se sa mai, da cosa nasce cosa. Chi è che ti dice che la pensa minga un'acqua di evasione? Mi ha adesso volato e fa un sondaggio. Tanto le mie mie le ha la cassa e la vedo minga. Va bene, ma se la mora la gesta, in dove che la porti? Beh, potrei portarla anche in campagna, adesso che è la bella stagione, oppure al mare o in montagna. E il fatto è che a me la montagna mi fa girare il cuore. No, ha l'impegno portarla al mare, oppure a stacchia anche in città. E se mi vedono? No, ho deciso. La porti al mare. Il rumore delle onde, il riflesso della luna. Dunque, adesso la rampini. Buongiorno signora, ha mangiato bene? Buongiorno, sì, benissimo. Su marito torna subito? Ma, certo che torna subito. Ma lei come fa a saperlo? Lei, chi è? Sono il titolare del ristorante e il suo marì, la, che la ridaminga è, andando via, mi ha lasciato lei impegno. Lasciate impegno? Ma stia attento come parla. Mio marito non è affatto andato via. È semplicemente andato un momento alla toilette. Ed è quello là che ritorna. Ma, che la mi scusa? Ma, su marì, è l'è quella? Ma, come? Le minca quelle che le andrà a ferra un quart'ora fa, c'è pa, porta fei. Ma chi è andato fuori? Ma chi è quello là? Ma, mio marito è questo qui. Luigi, guarda un po' di mettere a posto questo signore che mi sembra un po' matto e anche un po' furbo. No, no, ma no, ma no, chiedo scusa. Che è un equivoco. Chiedo scusa. Osteria. Che bidon. All'è la prima volta che mi fa fare un bidon da sta qualità. www.redigio.it E la storia continua. E la storia continua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti